Ciao ragazze, come state? Spero bene, allora. Nuovo video, vogliamo piatti insieme. A dopo, ciao! Grazie a tutti. 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 E io adesso mi congedito questo video, ci vediamo nel prossimo video, che non so quando sarà, ma sarà un video dove vi faccio le unghiette che ne ho bisogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.